Si chiama Khan Yaman ed è un attore famoso, moderno, avvocato burco, che ha avuto un successo internazionale con ruoli da protagonista in diverse serie televisive. In Italia è conosciuto per lo più per il ruolo di Ferit Aslan in Vitter Suite, ingredienti d'amore, e per quello del fotografo Khan Di Vitt in The Dreamer, Le Ari del Sogno. Pensate che costrui Khan si trova a Roma, nel capitale d'Italia, di recente dove ha creato un assembramento su cui addirittura il capo della polizia, Gabrielli, ha dovuto chiedere un approfondimento. Infatti Gabrielli ha chiesto una relazione per immediata e dettagliata ricostruzione di quello che si è verificato di recente nel centro di Roma, presso l'Hotel Eden, dove diversi decidi giovani si sono radunati per la presenza di questo bravissimo attore turco, Khan Yaman, per uno spot del regista Fernan Ospetek, immagini che sono diventati virali qui sul web e che hanno ricevuto una risonanza mediatica pazzesca. L'attore vi ricordo che è andato nell'89, sarà il nuovo santo Khan e lavorerà in compagnia del buon Luca Argentero. Khan ha partecipato anche come ospita verissimo e è stato ieri sera a C'è posta per te. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. vi ho dato una visuale, una visione completa di chi è costruito in maniera sintetica ma più efficace. Grazie, il video termina qua. Questo video non vuole vedere la sopravvi, vedi altre persone ma solo informati e basta. Ciao a tutti, da Leandro e da Radoviteria.